Nella puntata serale di Endless Love di venerdì 20 settembre, assisteremo a un nuovo insidioso attacco di Emir. Con un gesto vile, manderà in fiamme il negozio appartenente alla famiglia di Kemal, seminando caos e disperazione. Ma non è tutto. Fame parlerà con Nian e questa volta non con i toni che ha sempre utilizzato con lei. Nian si presenterà determinata alla porta di Kemal, pronta a scardinare i misteri dell'omicidio di Ozan, seguita da vicino dalle ombre del pericolo. Solo la sera precedente, una trappola era stata tesa per Emir. Tuttavia il sospetto serpeggia nell'aria. Kemal teme che Emir, con occhi sempre più scrutatori, possa intensificare la sua sorveglianza su Nian. Con un senso di urgenza che gli stringe il petto, Kemal accompagna rapidamente Nian fuori, lontano dal pericoloso mirino di Emir. Non appena lei lascia il parcheggio, lui si precipita verso la sala di controllo, cuore della videosorveglianza del suo palazzo. E lì, tra i monitor che lampeggiano, scopre Tufan, già al lavoro su ordine di Emir, a cercare freneticamente prove del passaggio di Nian. I sospetti di Kemal si rivelano amaramente veri. Ma ciò che ancora nessuno ha scoperto è l'astuta mossa di Kemal. Ha infatti ingaggiato un suo vecchio amico, un abile hacker, posizionandolo strategicamente all'interno dell'ufficio di videosorveglianza del palazzo. Questo genio della tecnologia ha il compito cruciale di far sparire ogni traccia di Nian dai filmati, garantendo che il suo passaggio rimanga un segreto ben custodito. Tufan, ignaro del trucco sotto il suo naso, consegna i video sia della sera precedente che del giorno in corso a Emir. Quest'ultimo, scrutando attentamente i filmati alla ricerca di un qualsiasi indizio, si trova davanti a un nulla di fatto, nessuna ombra di Nian, nessun segno del suo passaggio. Di fronte a questa impasse, Kemal comprende che la posta in gioco è alta e che per proteggere Nian deve giocare ancora più astutamente e agilmente di Emir. È un duello silenzioso, un balletto di intelligenza e strategie dove ogni passo falso potrebbe essere fatale. Kemal è risoluto, farà tutto il necessario per mantenere segreti i loro incontri, muovendosi nell'ombra per evitare che Emir scopra la verità. Quella stessa mattina, Feime varca la soglia dell'ufficio di Kemal, che però non è ancora arrivato. I suoi occhi si posano su un oggetto insolitamente fuori posto, un quaderno arancione sulla scrivania. Le parole scritte da Nian, dense di rivelazioni e segreti, catturano immediatamente la sua attenzione. È lì, tra quelle pagine, che Feime scopre la verità sconvolgente. La piccola Denise è in realtà sua nipote. Il cuore di Feime batte all'impazzata mentre le parole danzano davanti ai suoi occhi. Una rivelazione che ribalta ogni sua convinzione precedente. Ancora immersa nel turbine di emozioni che questa scoperta ha scatenato, sente il rumore di passi avvicinarsi. È Emir che entra. La sua figura minacciosa si staglia sulla porta dell'ufficio di Kemal. Il tempo sembra fermarsi, e il respiro di Feime si fa corto, mentre il peso di quello che ha appena appreso si mescola alla tensione di quell'incontro imprevisto. Con la verità, ora nascosta tra le pagine del diario e un nemico che cammina verso di lei, Feime si ritrova al centro di un vortice di decisioni rapide, e istintivamente nasconde il diario in borsa. Il clima si fa incandescente quando Emir, con una freddezza tagliente, rivolge minacce velate ma inequivocabili a Feime e alla sua famiglia. Le parole di Emir sono chiare. Fino a quando Kemal continuerà a cercare Nian, lui non esiterà a distruggere chiunque gli stia vicino. Mentre le minacce echeggiano nell'aria, la porta si apre bruscamente per rivelare Kemal, che colto da immediata preoccupazione alla vista di sua madre visibilmente turbata e di Emir, agisce distinto. Senza esitazione, Kemal si frappone tra sua madre e Emir, la sua presenza un baluardo contro le minacce dell'uomo. Con fermezza e un brivido di rabbia nella voce, caccia Emir, non senza prima rilanciare un avvertimento tagliente, che si tenga lontano dalla sua famiglia. Subito dopo, la preoccupazione per la sicurezza dei suoi cari spinge Kemal ad agire. Si rivolge a Zehir, la sua persona di fiducia, incaricandolo di una missione delicata e cruciale. Mettere sotto stretta sorveglianza tutti i membri della sua famiglia. Il compito è arduo, poiché deve essere svolto con la massima discrezione per non allarmare né spaventare i suoi cari. Zehir, conosciuto per la sua abilità nell'operare nell'ombra, accetta. Kemal, tornando al fianco di sua madre, cerca di rassicurarla, promettendo che farà tutto il possibile per proteggerli. Nian, con una determinazione ardente, è ormai immersa completamente nella ricerca della verità sulla tragica morte di Ozan. La sua risolutezza la porta dritta nell'ufficio del suo avvocato, un luogo dove spera di scovare nuovi indizi. Con una calma forzata, posta di fronte al legale, le sue domande sono precise e incisive. Vuole sapere esattamente chi fosse a conoscenza del trasferimento di Ozan dall'istituto penitenziario all'ospedale. L'avvocato, uomo di rigida professionalità, rivela dettagli cruciali che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Rivela che nel momento in cui Ozan venne trasferito per motivi di salute, lui non esitò a informare i genitori di Nian, persone di sua massima fiducia, e anche Zainep. Ogni informazione ottenuta è un pezzo del puzzle che Nian sta mettendo insieme con meticolosa attenzione. La rivelazione che anche Zainep fosse al corrente della situazione di Ozan coglie Nian di sorpresa. Con il cuore che batte forte per l'agitazione e la mente già a mille, prende subito il telefono per contattare Zainep, decisa a vederci chiaro. Organizza un incontro senza indugi, spinta dalla necessità impellente di scoprire ogni angolo di verità. Arrivata a casa di Zainep, Nian non perde tempo. Con tono diretto chiede se, dopo aver ricevuto la notizia del trasferimento di Ozan in ospedale, Zainep si sia recata a trovarlo. Zainep, con uno sguardo che sfugge l'incontro diretto degli occhi e una voce incerta, risponde di non essere riuscita a farlo perché Kemal l'aveva obbligata a recarsi a casa sua. Ma il racconto di Zainep nasconde ben più di una semplice omissione. Un flashback, come un lampo di luce su un passato nascosto, Qi rivela la verità. È vero che Kemal aveva chiamato Zainep a casa sua, ma questo era avvenuto solo dopo che lei aveva già fatto visita a Ozan in ospedale, un dettaglio che nemmeno Kemal conosce. Nian, mentre ascolta la risposta di Zainep, sente l'inganno nell'aria, una dissonanza tra le parole pronunciate e la verità non detta. Mentre Nian lascia la casa di Zainep, il destino intreccia le sue trame in modo inaspettato. Fuori, si imbatte in Feime, che sorprendentemente non le si rivolge con la solita animosità, ma le pone una domanda delicata e inaspettata. Le chiede se abbia mai considerato l'idea di divorziare Daimir. L'atteggiamento inusuale di Feime disorienta Nian, ignara del fatto che Feime sia a conoscenza che Denise è figlia di Kemal. Questo cambiamento nel comportamento di Feime lascia Nian confusa e riflessiva, incapace di comprendere le motivazioni dietro a tale gentilezza improvvisa. Nel frattempo, Zainep si trova in una situazione di isolamento emotivo crescente, dato che Emir non risponde più alle sue chiamate, avendola bloccata sul suo cellulare. Tuttavia, la visita di Nian a casa sua fornisce a Zainep l'opportunità perfetta per riconnettersi con Emir. Determinata a farsi sentire, usa il telefono di casa per chiamarlo, cogliendo l'attimo per fissare un incontro. Zainep gli comunica che deve parlare urgentemente con lui riguardo alla visita di Nian, sperando di attirare la sua attenzione e magari anche di riaccendere il suo interesse. La notizia della visita di Nian a Zainep scuote Emir, spingendolo a cercare conferme. In un impeto di cautela, chiama immediatamente Banu, sperando di ottenere da lei la conferma di quanto accaduto. Tuttavia, Banu si trova fuori casa in quel momento e non può fornire le informazioni richieste. Questo incidente ricorda a Banu l'importanza del loro patto. Lei è stata incaricata di sorvegliare la famiglia di Kemal e di riferire ogni loro mossa a Emir, ma si rende conto di non essere stata all'altezza del compito assegnatole, non monitorando gli eventi con la dovuta attenzione. Nel frattempo, Kemal e Nian si trovano per un incontro segreto lontano da occhi indiscreti. Nian, con un misto di speranza e apprensione, chiede a Kemal di confermare la versione dei fatti data da Zainep riguardo alla sua visita in ospedale il giorno del trasferimento di Ozan. Kemal conferma prontamente, ma non senza rimproverarla per l'iniziativa pericolosa che ha preso. È preoccupato per la sicurezza di Nian, consapevole delle insidie che circondano ogni loro mossa e del rischio che comportano tali indagini solitarie. Kemal sottolinea quanto sia rischioso per Nian agire da sola in una situazione così delicata e pericolosa, ricordandole che ogni loro azione potrebbe non solo metterli in pericolo, ma anche coinvolgere in maniera indesiderata le persone a loro care. Nian è all'oscuro di un legame ancora vivo tra Zainep ed Emir, una relazione intricata in cui Zainep è disposta a tutto pur di rimanere accanto a lui. Durante il loro incontro segreto, Kemal illustra a Nian le conseguenze delle sue azioni. Visitare Zainep non solo l'ha posta in una posizione vulnerabile, ma l'ha anche esposta al rischio di essere sospettata da Emir. Kemal è convinto che Zainep, nell'intento di riavvicinarsi a Emir, non abbia esitato a informarlo della visita di Nian, un atto che potrebbe avere ripercussioni pericolose per entrambi. Con queste avvertenze, Kemal cerca di preparare Nian a un incontro che si preannuncia carico di tensione, dove il minimo errore potrebbe costare molto caro a entrambi. Emir, con una mente sempre in movimento e occhi aperti su ogni possibile mossa di Kemal e Nian, ha già tessuto un'altra trama di sospetti e sorveglianza. Convinto che Kemal non abbia rinunciato al suo desiderio di riconquistare Nian, decide di prendere misure drastiche per tenere sotto controllo ogni loro interazione. Così, ha pianificato di installare una telecamera nascosta nella sala riunioni della sua azienda, dove si terrà un incontro cruciale che vedrà la partecipazione di entrambi. Leila, che lavora all'interno dell'azienda ma è all'oscuro delle macchinazioni di Emir, nota alcuni lavori improvvisi e inusuali nella sala riunioni, intuendo che qualcosa non quadra, si affretta a informare Kemal del suo sospetto, suggerendo che potrebbe esserci qualcosa di più dietro a questi apparenti lavori di manutenzione. La riunione inizia con Emir, Kemal e Nian presenti. Dopo poco, Emir trova un pretesto per lasciare la sala, dando a Kemal e Nian l'illusione di privacy. Tuttavia, la loro conversazione non è affatto privata. Emir, insieme a Tufan, si ritira nel suo ufficio da dove, tramite la telecamera nascosta, inizia a spiare ogni loro movimento e parola. Questo atto di sorveglianza segreta aggiunge uno strato ulteriore di tensione all'incontro, con Kemal e Nian, che, avvisati da Leila, sono ora consapevoli del rischio di essere osservati. La loro sfida ora è comunicare in modo tale da non rivelare nulla di compromettente, mentre cercano di decifrare l'uno le intenzioni dell'altro, sapendo che ogni gesto o parola potrebbe essere usato contro di loro. Kemal e Nian, consapevoli della possibile sorveglianza di Emir, decidono di adottare una strategia durante la loro conversazione nella sala riunioni. Kemal avvia il dialogo ponendo a Nian una domanda delicata riguardo ai suoi sospetti sulla morte di Osan, cercando di sondare il terreno senza rivelare troppo. Nian, intuendo il rischio e volendo proteggere sia se stessa sia Kemal, risponde con fermezza, chiedendogli di lasciarla in pace e di permetterle di vivere la sua vita senza ulteriori complicazioni. Emir, osservando e ascoltando ogni loro interazione attraverso la telecamera nascosta, non può fare a meno di sentirsi soddisfatto dalla risposta di Nian. Vede in quella reazione una conferma del suo controllo sulla situazione, ma allo stesso tempo si rende conto che la lotta contro Kemal sarà ardua e richiederà tutte le sue forze. Più tardi quella sera Emir e sua sorella Azu si trovano al capezzale di Mushgan. È un momento di rara vulnerabilità per Emir, che si apre con Azu, condividendo il dolore per la situazione della madre e l'indifferenza del padre. Rivela anche la sua drastica decisione di fingere che la madre fosse morta, un segreto che ha pesato profondamente sul suo cuore. Azu, sempre pronta a sostenere suo fratello ma con un fuoco di vendetta che arde in lei, suggerisce una mossa audace, rendere pubblico il fatto che la loro madre sia ancora viva. Questo non solo scuoterebbe le fondamenta della loro famiglia, ma potrebbe anche portare all'arresto di Gallip per aver falsificato la morte di una persona. Tuttavia, Emir si oppone fermamente a questa idea, temendo le ripercussioni e il caos che ne deriverebbe. La sua decisione di mantenere segreto lo status della madre è dettata da una strategia più profonda e da calcoli che solo lui conosce. Emir, con una risolutezza che sorprende persino Azu, stabilisce dei confini chiari nei suoi piani di vendetta contro Gallip. Sua madre rimarrà al di fuori di ogni schema. Per lui, la figura materna rimane un santuario intoccabile, una linea che si rifiuta di oltrepassare nonostante la sua natura spesso spietata e calcolatrice. Emir è disposto a tutto per ottenere giustizia o vendetta, ma non a scapito di sua madre, l'unica persona che desidera proteggere ad ogni costo da ulteriori danni o sfruttamenti. Nello stesso tempo, quella sera stessa, Vildan telefona a Kemal, chiedendogli se abbia ricevuto un pacco inviato quella mattina, un pacco che contiene un quaderno. Kemal, confuso, nega di sapere di cosa stia parlando, spingendo Vildan a insistere sul fatto che ne parleranno solo dopo che lui avrà trovato il quaderno. Nihann, al suo ritorno a casa, cerca il quaderno per annotare alcuni pensieri, solo per scoprire con sgomento che è scomparso. Realizzando che il quaderno che Vildan menziona al telefono con Kemal deve essere il suo, l'ansia si impossessa di lei. L'importanza di quel quaderno, pieno di riflessioni personali ed informazioni sensibili, rende la sua scomparsa non solo un colpo al cuore, ma anche una potenziale minaccia alla sua sicurezza. Nihann, turbata dalla scomparsa del quaderno, decide di affrontare immediatamente Vildan per ottenere delle spiegazioni. Con un cuore pesante, Vildan le rivela una verità che fino a quel momento aveva tenuto nascosta. La sua paura di Emir. Confessa che Ozan, quando era ancora in vita, aveva sempre sostenuto che solo Kemal avrebbe potuto offrire a Nihann la protezione necessaria contro le minacce di Emir. Ma lei non aveva dato ascolto a quelle parole, ostacolando Kemal in ogni modo possibile. Ora, resasi conto degli errori del passato, Vildan è determinata a non ripeterli. Ha inviato il quaderno a Kemal nella speranza di rivelare la verità su Denise, convincendo Kemal a intervenire per liberare e proteggere Nihann da Emir. Nel mezzo di questa rivelazione, la conversazione tra Nihann e sua madre viene parzialmente intercettata da Emir, che coglie solo frammenti del discorso. Ascolta quando Nihann esprime il desiderio di tentare una vita serena al fianco di Emir, nonostante le turbolenze interne. Questo dettaglio, estratto dal contesto più ampio della loro conversazione, lascia Emir confuso ma visibilmente preoccupato per il turbamento di Nihann. Avvicinandosi a lei con un misto di cautela e preoccupazione, Emir le chiede cosa sia successo. Nihann, ancora sconvolta e ora messa alle strette, sceglie di nascondere la verità sulle rivelazioni di sua madre e risponde evasivamente, dicendo di aver perso un quaderno in cui stava scrivendo pensieri e sentimenti per Denis. Questa risposta, seppur parziale, serve a deviare l'attenzione di Emir dalla conversazione intercettata. Emir, cercando di mostrare un lato collaborativo, si offre di aiutare Nihann a cercare il quaderno perduto. Lei, tuttavia, rifiuta categoricamente la sua assistenza, sospettosa e desiderosa di mantenere una certa distanza da lui in questo momento delicato. Dopo la telefonata di Vildan, Kemal è convinto che il quaderno possa essere stato preso solo da Feime o da Emir, entrambi arrivati in ufficio prima di lui. Deciso a chiarire la situazione, Kemal si dirige verso casa dei suoi genitori per parlare con Feime. Tuttavia, prima che possa affrontare sua madre, un vicino di casa irrompe con notizie drammatiche. Il negozio di Hussein è in fiamme. La famiglia si precipita sul posto, trovandosi di fronte a una scena di distruzione. Il negozio è completamente avvolto dalle fiamme. L'impotenza e lo shock dominano tutti i presenti, ma sia Kemal che Feime sono convinti che dietro l'incendio Cii sia la mano di Emir. Nel frattempo, l'escalation degli eventi spinge Kemal all'azione. Accompagnato da Tariq, si dirige furiosamente verso la casa di Emir. Una volta lì, costringono Emir a uscire. Tariq, dominato dall'ira, gli urla contro, accusandolo di aver oltrepassato ogni limite con il suo comportamento vendicativo, ricordandogli che nonostante i favori fatti in passato, non ha alcun diritto di prendersela con la sua famiglia. Questo confronto porta alla luce l'incendio anche davanti a Nian e Vildan, che fino a quel momento erano all'oscuro della tragedia. Emir, pur non ammettendo apertamente la sua responsabilità di fronte a tutti, lascia intendere a Kemal di essere dietro all'incendio. Kemal, con una calma glaciale che maschera a malapena la sua furia, risponde dicendo a Emir di aspettare solo un giorno. Gli promette che anche Emir riceverà delle notizie, suggerendo che le conseguenze delle sue azioni sono imminenti e che sarà meglio per lui attendere e osservare gli sviluppi che seguiranno. Mentre la tensione sale, Tariq e Kemal sono insieme in macchina, un momento di relativa quiete in mezzo al caos. Kemal, con un tono serio e preoccupato, mette in guardia il fratello sulle minacce di Emir, sottolineando la necessità di proteggere la loro famiglia. Specificatamente, chiede a Tariq di prendersi cura della loro madre, del padre e di sua moglie. Tariq, notando una mancanza, interroga Kemal sul perché non abbia menzionato Zeynep. Kemal, visibilmente teso, gli chiede di non indagare ulteriormente, ammettendo di avere le sue ragioni per non coinvolgerla. Nel frattempo la scena si sposta su Wilden, visibilmente sconvolta e in lacrime nella sua stanza. Nihan la raggiunge e insieme condividono la preoccupazione per il diario mancante. Nihan sottolinea l'urgenza di recuperarlo, evidenziando la pericolosità di Emir e le possibili conseguenze devastanti se il diario dovesse finire nelle mani sbagliate. In un angolo nascosto della casa, Feime sfoglia il diario, commossa fino alle lacrime, accarezzando una foto della nipote, testimoniando la profondità emotiva che il diario ha evocato in lei. Il giorno successivo, la famiglia e gli amici si riuniscono per rimettere in sesto il negozio di Hussein, devastato dall'incendio. Nel mentre, Kemal incarica Zeyr di preparare un piano d'azione contro Emir, riponendo fiducia nelle sue capacità strategiche. L'atmosfera è carica di un senso di comunità e cooperazione rinnovati. L'intervento di Asu interrompe brevemente questa unità. Visibilmente irritata, rimprovera Kemal per non averla tenuta informata degli eventi. Hussein interviene, calmando gli animi, sottolineando l'importanza di non lasciarsi andare alla rabbia. Kemal giustifica la sua scelta spiegando che ha bisogno che Asu gestisca gli affari aziendali, un ruolo cruciale che solo lei può svolgere. La scena si allarga con l'arrivo di Banu, che porta a Hussein il suo piatto preferito, simbolo di un sostegno familiare che riscalda il cuore. Hussein, commosso, esprime quanto si senta fortunato per avere una famiglia finalmente riunita, malgrado l'assenza di Zainep. A casa Sezin l'aria è tesa. Emile esce di fretta, lasciando Nian sola con Vildan e con i suoi pensieri e preoccupazioni crescenti riguardo al diario scomparso. Proprio mentre Nian sta per uscire per indagare ulteriormente, il campanello suona inaspettatamente. Al di là della porta trova Feime, che appare visibilmente agitata e desiderosa di parlare in privato. Senza indugi, Nian accoglie Feime e le chiede immediatamente di cosa voglia discutere. Con un gesto carico di significato, Feime estrae il diario e insieme si spostano nel giardino per una conversazione più riservata. L'atmosfera è carica di emozione, mentre Feime rivela di aver letto tutto il diario. Con uno sguardo intenso e sincero, confida a Nian di aver scoperto che Denise è sua nipote. Ma la rivelazione non si ferma qui. Guardandola dritto negli occhi, Feime le fa un avvertimento grave. Non deve consegnare quel diario a Kemal quando la bimba compirà un anno. Le spiega che la loro vita, inclusa quella di Denise, è in pericolo, rivelando di essere stata personalmente minacciata da Emir. Feime sospetta che la sua azione di mettere il diario nella borsa sia stata notata da Emir e che questo possa essere stato il catalizzatore dell'incendio devastante nella barberia. Le parole di Feime aggiungono un peso enorme sulle spalle di Nian. La decisione su come gestire il diario diventa un dilemma cruciale, poiché ogni scelta potrebbe avere conseguenze drammatiche per tutti loro. Feime, con un tono implorante, chiede a Nian di mantenere il silenzio. Sottolinea l'importanza che Kemal non venga mai a sapere dell'esistenza di Denise, poiché se scoprisse che la piccola è sua figlia, potrebbe cercare di portargli la via. Con gli occhi pieni di comprensione dolorosa, Feime le ricorda quanto profondo possa essere il dolore della perdita per una madre, un dolore che solo chi ha dato vita può veramente comprendere. Aggiunge poi che Kemal è destinato a sposarsi con Asu e che la sua vita prenderà una direzione completamente diversa. Nian, con le lacrime che le solcano il viso, annuisce silenziosamente, scusandosi con Feime per non essere riuscita a tenere Kemal lontano da sé. Feime, con un gesto di tenera compassione, le asciuga le lacrime, incoraggiandola a mantenere il segreto. Poi, lascia una Nian sommersa dal peso delle responsabilità e dalla tristezza di ciò che potrebbe accadere se il segreto venisse scoperto. Nel frattempo, Kemal, non riuscendo a placare i suoi sospetti, chiama Vildan per indagare sul contenuto del diario. Vildan, con prontezza, inventa una scusa, affermando che il diario era uno sfogo personale in cui aveva riversato tutta la sua rabbia per la morte di Ozan e che in un momento di disperazione glielo aveva inviato. Kemal, ancora sospettoso, la incalza chiedendo il motivo della sua telefonata riguardante la scomparsa del diario. Vildan allora accenna di essere in cura con farmaci per la depressione, che a volte le causano lapsus di memoria. Aggiunge che, pentitasi di aver inviato il diario, ha incaricato Emir di recuperarlo. Kemal sembra accettare questa spiegazione, ma prima di concludere la conversazione sente il bisogno di chiarire con Vildan che lui non è responsabile della morte di Ozan. Terminano qui le anticipazioni di Endless Love. Io sono Isabella e come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Secondo voi Feime ha fatto bene a dire a Nian di non rivelare nulla a Kemal? Fatemi sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video.